Dobbiamo introdurre degli elementi di tettonica per spiegare perché avvengono i terremoti. La tettonica placca del pianeta rimodella continuamente la crosta terrestre deformando e modellando le sequenze statigrafiche e le rocce che costituiscono. Le rocce possono subire trasporto o deformazione interna. Proviamo a vedere come si comportano queste forze al suo interno. Qui vediamo un grafico dove sull'asso del X mettiamo l'entità della deformazione, quindi quanto si deforma la roccia, mentre di qua sull'asso delle Y mettiamo l'entità dello sforzo, cioè qual è lo sforzo che sta subendo questa roccia. Vediamo come si deformano. Abbiamo già visto in una lezione precedente questo grafico in cui vediamo una curva dove il comportamento è lineare, quindi è una tot interazione di sforzo, abbiamo una tot deformazione. Questo rapporto rimane costante e lineare fin quando ci troviamo nel campo elastico. Quindi quando la roccia ha un comportamento elastico, ovvero che si deforma in modo lineare con lo sforzo, la roccia si deforma, però questa deformazione elastica vuol dire che una volta tolto lo sforzo, la roccia ritorna ad avere la forma originaria, quindi non è una deformazione definitiva. Si arriva a un punto in cui la deformazione non è più lineare e abbiamo il primo limite della roccia. Questo si chiama limite di elasticità, ovvero è il punto oltre il quale la roccia si può deformare in modo elastico, ovvero una volta tolto lo sforzo la roccia torna come era prima. Se aumento con lo sforzo, quindi salendo con lo sforzo, la roccia non si deforma più in modo elastico, ma in modo plastico, ovvero che una volta tolto lo sforzo la deformazione rimane. Anche questa modalità non può andare avanti per sempre, ci sarà un limite di deformazione plastica che è un punto oltre il quale la roccia si rompe e infatti abbiamo il punto di rottura. Quindi possiamo identificare una componente di deformazione elastica regolata dalla legge di Hooke, l'abbiamo già visto in una lezione precedente. La legge di Hooke descrive esclusivamente il comportamento elastico dei materiali, ovvero quando la deformazione si comporta in modo lineare con lo sforzo applicato alla roccia e una volta tolto lo sforzo la roccia riacquisisce la forma originaria, quindi la deformazione non è definitiva, ma solo sotto sforzo. Quindi questo è importante da ricordare che la legge di Hooke si utilizza solamente nel campo di deformazione elastica. Poi abbiamo il campo di deformazione plastica in cui la deformazione acquisita dalle rocce in questo campo rimane anche dopo che è stato tolto lo sforzo. Ad esempio queste rocce sono state in grande profondità sottoposte a grandi pressioni, sono state deformate. Una volta che la tettonica le ha trasportate in superficie mantengono la loro deformazione, cioè queste rocce ormai sono piegate. Anche se in questo momento non stanno subendo nessuno sforzo, la loro deformazione rimane così e quindi è una deformazione plastica definitiva. Sono piegate e non tornano più come prima. Ovviamente in questa modalità la legge di Hooke non funziona più, quindi con la legge di Hooke non si può spiegare il comportamento delle rocce nella modalità plastica. Poi quando lo sforzo aumenta ancora e si supera anche il limite di deformazione plastica di una roccia abbiamo infine il punto di rottura. Quando praticamente abbiamo la rottura della roccia e tutta l'energia accumulata elastica e plastica si libera improvvisamente generando il terremoto. Quindi il terremoto è la liberazione di questa energia, in realtà è una parte di questa energia perché la maggior parte si converte in calore lungo il piano di faglia, mentre una piccola parte diventa energia sismica che poi si trasmette con delle onde sismiche dentro la Terra e noi lo percepiamo sotto forma di terremoto. Andiamo avanti. Vediamo come è fatto un terremoto. Un terremoto è costituito da un piano di faglia, da un ipocentro, il punto in cui partono le onde sismiche e l'epicentro è il suo punto in superficie. Abbiamo l'ipocentro, il punto in cui comincia il sisma e l'epicentro la sua proiezione in superficie. C'è da dire che se esiste già un piano di faglia perché è attivato da terremoti precedenti l'energia liberata dalle onde sismiche è solamente quella elastica perché la roccia si deforma in modo plastico fin tanto che non c'è un piano di faglia di scorrimento. Il piano di faglia si forma con la rottura, quando si supera il limite di plasticità e si genera la rottura, quindi la faglia è il punto di rottura. Se invece la faglia c'è già perché si è formato in un sisma precedente tutte le deformazioni successive sono di tipo elastico perché una volta che la roccia raggiunge il limite di elasticità accumulato per attrito lungo il piano di faglia questa viene liberata, quindi un sisma generato su un piano di faglia preesistente l'energia che si libera è di tipo elastico quindi questa è l'energia che le rocce hanno accumulato sotto forma di deformazione elastica fin tanto che l'attrito lungo il piano di faglia glielo permetteva quando questa deformazione supera la capacità dell'attrito di mantenerlo le rocce scorrono lungo il piano di faglia e riacquisiscono con delle vibrazioni rapide e violente la forma originaria quindi perdono la deformazione perché sono in modo elastico e riacquisiscono la forma originaria questa liberazione di energia viene in gran parte rilasciata sotto forma di calore lungo il piano di faglia mentre una parte viene invece rilasciata con delle onde sismiche che si propagano sotto forma di sfere concentriche dal punto di partenza l'ipocentro è il punto in cui parte il terremoto l'epicentro è la sua proiezione in superficie il piano di faglia si può trovare o solamente nel sottosuolo oppure può anche emergere in superficie generando una scarpata di faglia perché il movimento relativo tra i due blocchi può creare un dislivello questi sono i vari punti di interesse di un terremoto quindi piocentro e piocentro, faglia e scarpata di faglia e ovviamente anche le onde sismiche che si propagano in modo sferico dal punto di innesco, dall'ipocentro questo è solo un estratto della lezione completa dedicata ai terremoti nella lezione completa vedremo che cos'è un terremoto vedremo quali sono le onde sismiche che lo caratterizzano e come queste si muovono all'interno del pianeta e come grazie a loro è stato possibile ricostruire la struttura interna della terra poi vedremo come si registrano le onde sismiche e in che modo si possono misurare i terremoti con la magnitudo Richter e la scala Mercalli e poi parleremo del rischio sismico in particolare l'Italia perché l'Italia è un paese fortemente sismico che cos'è il concetto del rischio e come si possono prevenire o limitare i danni in una zona sismica potete trovare questo ed altro ancora nella lezione completa di Scienze della Terra la numero 26 sui terremoti nel mio canale YouTube e sulle mie pagine social Prof Antonio Loiacono grazie